Per storie sconfinate, quest'anno studentesse e studenti delle terze e quarte dell'Istituto Liceti di Rapallo hanno realizzato il passaporto dell'umanità, consegnato al Galata Museo del Mare con la crociera didattica della Goletta Oloferne, dell'Associazione La Nave di Carta, che partita dalla Spezia ha fatto tappa a Santa Margherita ed è arrivata poi a Genova. Non nulla ci è sembrato migliore di un passaporto che facesse sì che ogni persona fosse libera di rimanere nel posto dove voleva ma anche di muoversi e di essere accettata. I ragazzi hanno scelto delle parole che fossero simboliche del valore dell'umanità, hanno costruito delle storie e abbiamo chiesto alla collaborazione dei bambini delle elementari, i quali bambini hanno fatto i disegni. Il passaporto dell'umanità è quindi composto da una parola, una storia e un disegno che rappresentano appunto questi valori. Alcune sono parole, diciamo così, astratte che riguardano sentimenti, sensazioni come compassione, speranza, desiderio. Altre sono invece parole concrete, viaggio, bagaglio, nave. Chi possiede il passaporto che in qualche modo ha composto è come se si impegnasse a mantenere, rispettare questi valori che sono stati individuati. All'ingresso dell'auditorium del Liceti è stata allestita la mostra fotografica a Lampedusa Frontiera Sud di Ilenia Monterosso, che oggi insegna al Liceti, ma nel 2005 era sull'isola a documentare lo sbarco di una trentina di donne, uomini e bambini, rimasti 48 ore alla deriva e salvati dalla guardia costiera. Riportavano ferite, tagli, alcuni erano disidratati, insomma erano oltre due giorni in viaggio. Anche il mio lavoro di fotografa poteva risultare irrispettoso. Chi ha accettato si è messo in posa e quindi attraverso questa posa ha deciso di comunicare qualcosa di sé. Giovedì 20 aprile, sempre a Rapallo, Tarekhe Brane, presidente del Comitato 3 Ottobre, Vito Fiorino, soccorritore che a Lampedusa salvò nel 2013 47 persone, incontreranno gli studenti. Il progetto è nato nel 2017 alla Spezia. Alla base ci sono le storie di un gruppo di ragazzi arrivati dall'Africa che sei anni fa frequentavano il serale al Cappellini Sauro e che raccontarono allora le loro storie agli altri studenti. Hanno fatto diciamo delle specie di temi che poi noi abbiamo assemblato in questa specie di libriccino che mi hanno chiamato Attraverso. Erano le storie raccontate da questi ragazzi attraverso la voce degli altri ma era anche la questione di dire io attraverso le difficoltà, attraverso un deserto, attraverso un mare per poter avere una vita migliore.